Signore e signori di YouTube, buona sega a tutti, buona sega a tutti. Mamma mia ragazzi, che partita al Cardiopalma di una Juventus che batte il Sassuolo per 3 a 1 e la vera domanda è, si può definire una vittoria meritata? Primo istinto? Prima risposta? No, personalmente no, non è una vittoria meritata perché la vittoria meritata non la ottieni al Cardiopalma, la vittoria meritata è quella lì 7 a 0, rapido, ciao tutti a casa, però al tempo stesso ci sono dei pensieri che mi venivano ogni tanto per la testa il Sassuolo è una grande squadra, è una delle grandi realtà di questo campionato affrontare il Sassuolo non è come affrontare l'Atalanta, è una certezza ormai una squadra che sta andando spedita anche in Champions, però comunque è una bella squadra tanti gol, una squadra d'attacco, una squadra che fa un bel gioco, ha bei giocatorini bella difesa, lì dietro con Chiriches e Ferrari buoni terzini, ha un Traore che secondo me è stato il migliore in campo perlomeno del Sassuolo, concedetemi questo, ma un Traore ha fatto una partita bellissima Locatelli che mi piace, mi piace sempre di più sto giocatorino a centrocampo secondo me, Locatelli potrebbe giocare in qualunque squadra in qualunque squadra, però attenzione i centrocampisti sono delicati e poi quando cambiano squadra devono poi conoscere bene i movimenti intorno a loro questo è vero, però almeno in questo Sassuolo è un grande giocatore poi ha quel Bocà che quando entra mi fa sempre cagasotto, e lo dico senza paura e poi De Frelle, che ha fatto un gol stupendo, ha fatto uno stop a seguire, è veramente bello quindi è una bella squadra il Sassuolo e mancavano anche alcuni giocatori comunque importanti e quindi la Juventus perdeva al primo tempo e al primo tempo ha iniziato subito creando una bella occasione, un bel tiro di frabotta e consigli fa una bella parata lì dopodiché la Juventus ha dovuto subire dei cambi esce al diciottesimo McKennie e il McKennie era tanto in questa squadra perché era l'unico dei tre centrocampisti capace di inserirsi bene e l'unico che può farlo, purtroppo non solo dei tre dei tre perché erano tre in campo, ma l'unico in generale dei centrocampisti, forse fagioli, credo, il ragazzo della primavera ma veramente è l'unico e quindi perdi McKennie, devi un attimino ridisegnare la squadra poi come se non bastasse, dopo un po' perdi anche Di Bala che alla fine stava giocando bene ultimamente e devi un attimino ridisegnarsi in campo e comunque sul finale il Sassuolo subisce il colpo dell'espulsione di Obianco che fa una cazzata clamorosa su una mattonella simile a quella di Quadrato che ha fatto l'altra cazzata clamorosa all'epoca con la Fiorentina comunque fatto sta, io ho questi giocatori che fanno questi interventi così al primo tempo e si fanno cacciare fuori ti puoi chiamare Quadrato, ti puoi chiamare Obianco ti puoi chiamare come cacchio vuoi ma veramente andrebbero io gli decurterei lo stipendio del mese perché veramente è clamoroso i giocatori che fanno queste cazzate comunque vabbè, Obianco è netto qui non veniamo a dire ci può stare è netto, si vede proprio la caviglia piede a martello è netto e quindi il Sassuolo è in 10 però lì a quel punto subentra quel discorso ritorniamo alla domanda vittoria meritata? no! perché 11 contro 10 non puoi soffrire così tanto oddio, la ripresa parte anche bene la Juve fa delle buone azioni e poi arriva il gol di Danilo ed è lì il problema è lì il problema dopo il gol la Juventus fa i due tipici atteggiamenti mentali che non dovrebbe mai 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 avere atteggiamento mentale 1 segni gol e quindi vabbè ragazzi ci vediamo io me ne vado è stato bello allora stasera che facciamo? dove andiamo? oh! cazzo ci hanno pareggiato ma vaffan... e quindi atteggiamento 1 che assolutamente non va bene è una squadra che smette di attaccare smette di difendere smette di stare concentrata perde tutti i rimpalli perde tutti i contrasti e allora no e allora no e allora subisce il gol del pareggio e lei subentra all'altro atteggiamento mentale che non ci deve essere mai mai ok ho subito il gol il gol deve essere lo schiaffone che ti rimette in campo ti risveglia la doccia fredda e invece no la Juventus dopo il gol tremano le gambe iniziano a sbagliare non difendono più oh mio dio questi ci bucono in contropiede ragazzi ma che figura di merda facciamo? perché l'idea è quella che figura di merda facciamo? se perdiamo con un uomo in più in casa che figura di merda facciamo? ci giochiamo tutto e quindi subentrano anche gli spetti è una Juve che mentalmente non è serena e allora questo però giustifica quasi il secondo atteggiamento dopo il gol la paura ci può stare la capisco anche perché perché era grave stasera però non giustifica allora il primo proprio perché voi mentalmente siete così in un momento delicato non potete avere quell'atteggiamento dopo il gol del vantaggio di Danilo quindi è quel primo atteggiamento che io non giustifico il secondo lo capisco pure ma è il primo la causa di tutti i mali di questa Juve dopo un anno con Sarri che facevamo sempre questo errore quindi vabbè comunque è andata alla fine il Sassuolo pareggia bellissima azione e poi dopo azioni da una parte dall'altra squadre lunghe la Juventus che giustamente non può più difendere il Sassuolo che giustamente ci crede perché comunque è una squadra che è in campo Traorei Bogà Odai Odai giocatori comunque contropiedisti anche il giocatore che è entrato Tolian veloce infatti poi dopo leva Muldur perché era stanchissimo Odai Zerbi cerca giocatori rapidi sulle fasce e poi dopo arriva un gol secondo me io l'ho interpretata così poi ditemi voi se sbaglio o meno io l'ho interpretata così io l'ho vista in questa maniera credo credo che è successo che all'inizio dell'azione del secondo gol Kuluseschi punta Ferrari Ferrari è il difensore centrale del Sassuolo il quale si stacca e se ne va fuori dall'area di rigore sulla destra quindi sulla destra nostra quindi sulla sinistra del Sassuolo per cercare di fermare Kuluseschi l'azione si gira da quest'altra parte Artur Rabiot trova Ronaldo Ronaldo diciamo velo in realtà non prende il pallone lo prende Frabotta Frabotta la mette al centro Kiriches vede il pallone arrivare di Frabotta però pensa che Iterio di sé c'ha Ferrari che è il difensore centrale l'altro il problema è che Ferrari è rimasto guardatevi bene il replay Ferrari è rimasto largo come terzino praticamente dietro Kiriches chi c'era? c'era un buco poi prova di intervenire chi cazzaropolo lì il terzino sinistro però a quel punto è troppo tardi perché non era c'era un buco dietro Kiriches e in quel buco lì si è infilato Ramsey perché quando si vede un bel buco bisogna sempre infilarsi e quindi detto ciò alla fine la Juve trova il vantaggio incredibile come dopo successivamente lo stesso Odei era riuscito lo stesso a entrare in aria a tirare un tiro di sinistro che poi blocca Cesni meno male un'altra azione lì vabbè un po' direzioni così caotiche però poi alla fine la spunta la Juventus ultima discussione veramente su Ronaldo perché ha segnato Ronaldo è giusto il risultato 3 a 1? non lo so il giusto e sbagliato nel calcio in realtà non esiste esistono solo i gol i rimpalli i controgoll i contro rimpalli i controgazzi esiste solo questo nel calcio giusto o sbagliato sono cose che diciamo noi ad esempio sono del parere che le squadre che si chiudono a catenaccio è giusto che perdano è giusto che vincano non sta scritto da nessuna parte nel regolamento del calcio che non puoi difendere tutti e undici davanti alla porta e se vinci la partita con un unico contropiede non sta scritto nel regolamento che non meriti sei libero di giocare il calcio come vuoi giocarlo quindi è giusto o sbagliato non lo so comunque tornando al discorso finale Ronaldo Ronaldo ha giocato male è la seconda partita che gioca effettivamente male e prima poco prima ha fatto uno scivolone al centrocampo anche piuttosto da già la passband plateale però poi alla fine cosa succede che parte sto lancio dalla difesa mi pare di Bonucci fa uno stop a seguire clamoroso bellissimo al 92esimo al 91esimo quello che era ha il tempo persino di guardare i guardaline dopo uno stop del genere se ne va in avanti a differenza di Ramsey nel primo tempo che anziché tirare e la vuole dare a Kuluseschi al centro che poi sbaglia clamorosamente lui se ne va in aria tira il suo bellissimo diagonale di destro e fa un gol veramente bello è un giocatore che non c'è con la testa che non è in forma non fa un gol del general al 91esimo quindi strike non lo so forse l'unica l'unica giustificazione è che Ronaldo senza Morata gioca peggio io ho questa idea Ronaldo senza Morata gioca peggio perché ha bisogno di Morata per giocare meglio comunque vabbè fatto sta che alla fine è andata come è andata abbiamo abbiamo vinto una partita importante restiamo in corsa la Juventus è lì al 33 punti potenzialmente a 36 qualora recuperasse vincendo la partita con Napoli vedremo è un campionato comunque attivo e vedremo che succede oggi Roma Inter hanno dato un risultato positivo per la Juve in fondo mentre invece il Napoli al 90esimo ha vinto a Udine vedremo stasera lui e Ronaldo si sono mangiati l'impossibile ah Ronaldo sempre non mi è piaciuto quando ha tolto il pallone scusate un attimo devo bannare un idiota scusate eh vabbè ogni tanto ci sono i coglioni persone che ce l'hanno piccolo e quindi automaticamente hanno bisogno di eccolo qui mettersi in mostra facendo quel poco che possono fare visto che non hanno altri modi per godersi la vita sto tornando a noi quindi il punto è questo è un campionato comunque aperto certo che è dura è dura perché comunque questa Juventus non da stabilità non c'è con la testa è molto debole e poi soprattutto sta avendo anche degli infortuni questo proprio non ci voleva però vabbè vi vedremo come dice Pirlo partita per partita io e il mio microfono simpatico vi salutiamo come ho detto microfono c'è stato l'abbonamento di Ciabbo grazie mille Ciabbo che ha fatto anche scattare la faccina sorridente con l'arcobaleno che piomba da qui ritorna la faccina del microfono quasi quasi metto sempre questo al videocommento mi piace vabbè comunque ragazzi vi saluto mi raccomando fate i bravi noi ci vediamo prossimamente buon inizio settimana a tutti buon inizio a tutti ciao